In Sanremo voglio ringraziare tutta la squadra Think of Saxo perché oggi mi hanno dato molta fiducia e hanno lavorato a metà percorso. Oggi era una tappa dura, non da profilo ma più per la testa perché era molto freddo e sono molto contento per questa vittoria. E poi per Sanremo cosa vuoi sentire? E cosa vuoi sentire? Non lo so. Sei tu il favorito adesso? Tutti sono favoriti come ogni anno. Credo che ho fatto quattro volte Sanremo e ero sempre favorito ma non ho mai vinto. Possiamo dire sì, perché Sanremo non si sa mai chi vince. Hai cacciato un urlo liberatorio, un urlo forte quando hai vinto. Sì? Oggi dopo il traguardo. Perché ero contento per tutta la squadra, credo che serviva la vittoria qua. Si può dire finalmente? Sì, provavo sempre, come si dire, quando tira sempre uno una volta arriva. Ti mancava? Quanto ti mancava? Cioè hai pensato mentre facevi la volata? No, io oggi pensavo solo a vincere. Dopo la vittoria, quanto ti è mancata? Ci pensavi mentre facevi le ultime pedalate? Sei finalmente arrivata. Sono contento, sì.